Le tematiche della salute e dell'ambiente saranno al centro di due puntate di Filo Diretto in onda dopodomani e giovedì come di consueto poco prima di mezzogiorno su Telecity 7 Gold, canale 10. Esperti e relatori interverranno sugli studi epidemiologici nell'Alessandrino con particolari riferimenti all'area di Spinetta Marengo. Mercoledì e giovedì durante l'approfondimento prima del telegiornale parleranno il matematico e divulgatore Pier Giorgio Odifreddi, il professore Enrico Pira responsabile medicina del lavoro del Dipartimento di Scienze della Salute Pubblica e Pediatrica dell'Università di Torino, il professor Carlo Zocchetti ricercatore e autore in ambito epidemiologico.